Ma che cos'è il Resistance Profile o il profilo di resistenza? Benvenuti ad una nuova serie che voglio iniziare, che è la serie Te lo spiego semplice. Buttate là come nome, non so se vi piace o meno, però è notamente adesso. Perché faccio questa serie? Perché in tutti i miei video c'è un commento che è abbastanza ricorrente del Ludo comunque i video sono molto tecnici, devo cercare, googlare la maggior parte delle cose che dici, che utilizzi tanti termini inglesi eccetera eccetera. Quindi ho detto perché non fare una serie in cui prendo un termine e semplicemente me lo butto là, ve lo spiego e quindi la serie Te lo spiego semplice. Il Resistance Profile, il profilo di resistenza, sarà il termine di oggi. Che cos'è? Partiamo da una concezione, quella tra carico esterno e carico interno. Il carico esterno è il carico che noi abbiamo sul bilanciere, quello interno è il carico che noi percepiamo sul distretto target. Ovviamente su un carico esterno è sempre lo stesso, per esempio durante uno squat metto che ne so 100 kg, 200, quello che vi pare, avrò un determinato carico interno corrispondente sui quadricipiti, un altro diverso sui glutei, un altro diverso sui femorali, sugli elettori spinali eccetera eccetera. Comunque generalmente il carico interno è quello che sento sul muscolo. Quindi mentre il carico esterno rimane stabile per tutta l'alzata, perché noi bene o male scendiamo, alziamo, facciamo la nostra serie, la nostra ripetizione, quello che vi pare, e il carico esterno la rimane, cioè il carico che abbiamo messo sul bilanciere, il carico interno si muove, è diverso. Averte percepito in uno squat, per esempio, che quando scendete in basso in buca sentite il carico molto più importante, molto più pesante. Volendo si parla per esempio di quelli che fanno i mezzi squat, il dildo squat, quindi tutte queste squat a metà perché lo fanno? Perché in basso è molto più pesante, quindi evitano quel tratto di ROM molto più pesante, quindi rimangono in un tratto di ROM che è semplicemente più leggero. E giustamente diciamo ma come il carico è sempre quello? No, il carico esterno è sempre quello, ma il carico interno che l'atleta percepisce e questo varia. Varia in base a cosa? Varia in base a diversi frattori e questa variazione, adesso ci arriveremo, questa variazione del carico interno noi lo denominiamo, lo chiamiamo resistance profile, ossia il profilo di resistenza. Era la resistenza che fa il nostro muscolo, che esercita il nostro muscolo sul carico esterno, per vincere il carico esterno. Questo è un profilo. Il profilo come viene strutturato? come una funzione, quindi abbiamo un valore di tensione con il ROM, quindi il ROM ci indica ovviamente il punto in cui siamo nell'alzata, la tensione può alzarsi, abbassarsi, può muoversi in base all'esercizio. Abbiamo dei macchinari, per esempio della Hammer, che hanno un aumento, che ci danno più tensione in alto, quindi avremo una tensione che qua è un po' più bassa e man mano che saliamo diventa un po' più difficile. Quindi in base alla struttura di diverse cose noi abbiamo questo profilo che può essere diverso. Ora, questo è il profilo di resistenza, spiegato in maniera semplice, la variazione di tensione che noi sentiamo su un determinato distretto target nel corso della nostra alzata, nel corso della nostra ripetizione. Questo è fatto in maniera molto molto semplice, quindi spiegato semplice abbiamo questo, questo è il profilo di resistenza. Ora, rispondiamo innanzitutto perché è già spiegato semplice, va bene, però io ovviamente inizio a partire per la gente, parto con i miei missiloni, quindi state con me. La prima cosa da capire è questo profilo di resistenza, da cosa è determinato? In realtà è determinato da tre fattori principali. Il primo fattore è la nostra biomeccanica, cioè del nostro corpo e in particolare quello che è il momento di forza o il torque, il momentarma, eccetera, che abbiamo nei diversi tratti ROM. Quindi in uno squat e quando sto in alto che cosa succede? Che in realtà il carico è esattamente in linea con, quindi il vettore carico che è gravitazionale, ok? Quindi in linea con la gravità al centro della Terra, è esattamente in linea con il nostro corpo. Ma quando io scendo, man mano che scendo, arriva a un certo punto più o meno al parallelo dove il mio femore è perpendicolare al vettore gravità, quindi il laccio alla massima tensione, quindi forma un angolo a 90 gradi. Normalmente la massima tensione si ha dove l'angolo tra il vettore gravità e il mio braccio di leva formano 90 gradi perché è dove la sinusoide ha la massima tensione che è corrispondente a 1, quindi la sinusoide varia sempre da 0 a 1 e la funzione del momento di forza e del momento di forza è una funzione sinusodiale, quindi seno dell'angolo, quindi sui 90 gradi sarà maggiore. Abbiamo sempre un carlo, ok? Mi metto qua, il carlo dove è più pesante è qua, in questo punto dove l'angolo tra il vettore gravità e il mio braccio di forza è di 90 gradi, di nuovo, quando sto in basso io posso stare con un manubrio così, quando porto i sacchi della spesa sto così, se i sacchi della spesa li portassi così ovviamente il bicipite si affaticherebbe molto, no? E quindi vediamo che la nostra meccanica, la biomeccanica del nostro corpo ha un impatto ed è il primo piccolo profilo di resistenza che noi possiamo tracciare. Il secondo profilo di resistenza è la capacità di espressione di forza, che in realtà potremmo chiamare profilo di forza, del muscolo, ossia il muscolo riesce a esercitare forza in maniera diversa in base a dove sta nel ROM, ossia quando il muscolo è allungato al massimo esprime poca forza, man mano che ci avviciniamo a metà della lunghezza del muscolo esprime più forza e poi quando è massimo d'accorciamento esprime di nuovo meno forza e questa curva è una curva a campana. Ora, nella maggior parte degli esercizi che facciamo non arriviamo mai al massimo massimo allungamento muscolare, quindi generalmente noi partiamo un po' dopo, per cui quello che diciamo è che quando il muscolo è in fase di allungamento dell'esercizio, quindi non la sua fase di allungamento massima, dell'esercizio generalmente riesce a esprimere più forza e man mano che si accorcia riesce a esprimere meno forza, quindi quando il distretto è accorciato esprime meno forza. Quindi questo è un secondo profilo che si somma, quindi facciamo un esempio, una chest press, io qua in basso che cosa succede? Che ho un angolo, un momento di forza abbastanza alto, ok? È abbastanza importante, ok? Perché quest'angolo è di 90 gradi, quando sto qua io ho il manubrio qua che esercita forza in questa direzione e potrei starci tra virgolette tutto il giorno, no? Con i manubri qua sento meno forza. Quindi la mia biomeccanica mi comporta un profilo di resistenza in cui ho molta più forza qua e molta meno tensione qua, quindi qua sono debole tra virgolette, cioè sento il carico molto pesante e qua il carico lo sento più leggero. Però al tempo stesso il gran pettorale qua riesce a esprimere più forza, quindi quando io il carico è pesante anche il mio petto riesce a esprimere più forza e quando qua il carico risulta leggero il mio petto riesce a esprimere meno forza. Quindi in qualche modo questo secondo profilo di resistenza va un po' ad appiattire il primo profilo di resistenza, fa quello che è un matching, si chiama, cioè va a matchare in qualche modo, va ad aiutare e quindi il profilo di resistenza in realtà sul gran pettorale per questo discorso interno del muscolo è un filo più... ha dei picchi, è un filo più piatto, cioè ha meno picchi. Ora, la cosa che va detta è che la capacità della variazione di tensione esercitata dal muscolo è minima, non è così importante, tanto quanto la variazione del nostro braccio di leva, che in base a come è lungo il vostro omero, però generalmente per la maggior parte della popolazione è molto importante, cioè da qua a qua sento una tensione che è completamente differente, quindi non è che riesce a appiattirlo del tutto, però ha un minimo. E questo è il motivo per cui interviene il terzo profilo di resistenza, che è il profilo dato dal macchinario. Non c'è sempre, perché se io lavoro con dei manubri, per esempio il petto vado a spingere con i manubri, io non ho nessun macchinario, ho i manubri che hanno un vettore che è il vettore gravitazionale, pam, va verso il centro della Terra, quella è la sua accelerazione, eccetera. Però se io ho dei macchinari, quello cambia. Per esempio i macchinari dell'hammer hanno una struttura tale per cui, man mano che chiudo il movimento, il macchinario mi dà più tensione, perché inizia così e pian piano diventa sempre più perpendicolare a cosa? Al vettore gravità. Però all'inizio sta qua, praticamente il macchinario hammer, poi fa questo gioco. Quindi, poi, magari lo analizzeremo in altri video. Però il fatto sta che qua, dove io sono più, il carico è più pesante per la mia struttura, io, il macchinario mi dà meno carico, quindi in realtà è più leggero, man mano che chiudo il macchinario mi dà più carico. Quindi dove diventa più facile, in realtà il macchinario mi sta mettendo un surplus. Questo è il motivo per cui molti macchinari si sentono bene, come quelli della Nautilus, eccetera, perché in realtà tendono ad appiattire quello che è un profilo di resistenza che normalmente non abbiamo. Cos'è che percepiamo? Che non riusciamo ad andare oltre, non riusciamo ad andare oltre, mentre un macchinario in cui il profilo di resistenza è piatto si sente molto fluido, tipo un burro, tipo quella sensazione ma a me quanto sento bene il muscolo. In realtà molti non ragionano su questa cosa, ma deriva tanto dal profilo di resistenza. E poi la cosa che fa ridere sono le stesse persone che criticano gli elastici. Gli elastici vengono utilizzati e devono essere utilizzati con logica proprio per questo, per cercare di appiattire questo profilo di resistenza. I macchinari Nautilus, tanto famosi e tanto amati da tutti, sono dei macchinari molto prestigiosi, ho riconosciuto dei macchinari che si sentono veramente tanto tanto bene. Perché questo? Beh, in realtà si chiamano Nautilus per la forma della carrucola, che è una forma a conchiglia, quindi una carrucola che porta automaticamente a una modulazione del profilo di resistenza. Perché? Perché la distanza tra la corda, ok, che si va a muovere dove c'è poi, si genera tensione, e il fulcro della carrucola varia, perché se la carrucola è a forma di conchiglia, qua sarà minima, ma man mano che la carrucola si accorcia, la distanza aumenta, o viceversa insomma. Quindi una forma irregolare a conchiglia porta proprio a una modulazione del profilo di resistenza. E quindi in ultimo vediamo questo profilo di resistenza. Ah, piccola premessa, scusate, ovviamente tutto questo discorso del calcolare profilo di resistenza, non è un incentivo a, ok, quando mi metto sul macchinario devo calcolare, qual è la mia biomeccanica, qual è il muscolo, la posizione del muscolo, eccetera, il macchinario che cosa sta facendo, no. Il mio consiglio, ragazzi, senza stare ad impazzire, vai sul macchinario e senti, percepisci, cerca di creare intimità, e magari senti, ah, questo macchinario dov'è che cedo, ok? Cedo quando sto qua, quando sto per chiudere, o l'ultima ripetizione riesco a portarla alla fine. Quindi in base a questo riusciamo a capire quello che è la risultante del profilo di resistenza, quindi quello ultimo generato da questi tre profili di resistenza, o che dir si voglia, due profili di resistenza, un profilo di forza, ma la risultante, dovete, se percepirla, è inutile che vi mettete a calcolare, perché sono calcoli che hanno troppe variabili e che lasciano il tempo che trovano. Sentitelo, percepitelo, ok? Ora, detto questo, perché è utile, perché è interessante e perché è importante capire quello che è il profilo di resistenza? L'esempio che ho fatto prima, un profilo di resistenza piatto mi porta a una sensazione come se il macchinario fosse molto fluido, come un burro. Cosa comporta questo? In realtà io, idealmente, non sarà mai piatto, però immaginiamo che sia piatto. Vuol dire che io dove sto, sto nell'alzata, ho sempre la stessa tensione muscolare. Che cosa vuol dire? Che quando cedo, non ho vie di fuga, io cedo, fine, fatto. Vuol dire che se raggiungo il cedimento e porto la serie al cedimento, io ho tolto tutto quello che potevo togliere dal muscolo, cioè ho raggiunto un grado di attivazione dei meccano-recettori, quindi di segnalazione di tensione meccanica veramente estremo. Quindi automaticamente la serie sarà più efficace, perché a parità di ripetizioni ho generato molta più tensione meccanica. Lo possiamo vedere da cosa? Molto spesso in uno squat io non ho un'altra ripetizione completa da fare, ma potrei stare magari a fare 20 parziali. Quante volte vi succede in un curl, non riesco a chiudere, quando arrivi a cedimento fai 20 parziali in basso. Dico, sei arrivato a cedimento, hai dato tutto quello che puoi e hai 20 ripetizioni parziali? Sì, perché sto giocando su un tratto di ROM in cui c'è molta meno tensione. Ecco, con un appiattimento del profilo di resistenza, quindi per esempio gli elastici sull'axquat o alcuni macchinari, macchinari prime o citadel, che sono i macchinari che permettono la modellazione del profilo di resistenza, magari poi di questo parleremo, ma sicuramente l'avete conosciuto, ne avete sentito parlare, eccetera. Ecco, tutto questo porta automaticamente che cosa? Un movimento più fluido, un grado di cedimento molto più estremo, che vuol dire più segnalazione ipertrofica e un miglioramento del rapporto che abbiamo tra stimolo e fatica muscolare. Quindi, questo è il vantaggio principale del profilo di resistenza. Ora, questa è una serie spiegato semplice, spero di aver fatto, almeno la prima parte, dai, l'ho spiegato abbastanza semplice, ok? Spero di aver fatto passare il messaggio di che cos'è questo profilo di resistenza, perché è così interessante, perché è così importante conoscerlo e, in qualche modo, viene poi il discorso del, ok Ludo, come faccio poi a utilizzare queste informazioni all'atto pratico in allenamento? E qua magari ci dedicheremo degli altri video, perché sennò diventa veramente chilometrico. Questa è la serie spiegato semplice, quindi mi devo fermare qua. Nel frattempo, ragazzi, mi raccomando, mettete il follow al canale YouTube, abbiamo un network veramente di tantissime persone che guardano i video, ma non mettono il follow. Ricordatevi di iscrivervi, perché a voi non costa niente, ma ci date una mano veramente, veramente importante. Non perdetevi i nostri profili Instagram, TikTok, sta tutto qua sotto in descrizione, perché pubblichiamo tante cose anche diverse da quelle che pubblichiamo qua su YouTube, quindi non perdetevi tutto quanto. E per il resto, qualsiasi domanda qua sotto, sarò ben lieto di rispondere, come sempre, noi ci vediamo al prossimo video.